Sindaco, la predella costore della Vergine è rientrata a Fano, una bella notizia per la città. Sì, una bellissima notizia, oggi è rientrata dopo un tour, se così possiamo dire, perché è stata ospite una mostra a Urbino, poi a Perugia, ed è un bel momento perché è un patrimonio straordinario che rendeva spoglio la sua assenza a Santa Maria Nuova, dove tante persone vengono a visitarla. E quindi oggi, come dicevo, è una bella giornata. La pala ovviamente non è ancora rientrata perché si trova all'opifizio di Firenze, che è la massima istituzione per il restauro di opere d'arte al mondo e questo dà il valore dell'opera del Perugino. È un momento importante perché non dimentichiamo che il 2023 saranno le celebrazioni di 500 anni della morte del Perugino e quindi Fano, proprio per la presenza di queste opere importantissime, vuole celebrarlo nel migliore dei modi e questo è il primo passo, ma ci stiamo attrezzando per organizzare qualcosa di veramente importante.